Andrea Rossi, il caso di dire bentornato a Pescara, un ritorno da te fortemente voluto? Sì, è una cosa che è uscita fuori nell'ultima settimana, c'avevo anche altre offerte, ma ho preferito tornare qua dato che mi sono trovato molto bene, conosco anche il mister e la società a tutti, quindi ho spinto per tornare qua. Avete avuto un'offerta importante soprattutto dall'Avellino, però hai preferito Pescara? Sì, sì, mi hanno chiamato, però non me la sono sentita, anche se loro stanno facendo un buon campionato, ma io ho puntato forte su questa squadra e su questa società. Arrivi in un Pescara che ha iniziato davvero a carburare, un momento molto felice per la formazione biancazzurra che soprattutto in trasferta nelle ultime giornate ha raccolto punti pesantissimi. Sì, è una squadra che sta andando molto bene, ma mi ha fatto una buonissima impressione anche quando ero venuto a giocare qua con il Latina. Conosco il mister, conosco le idee che ha, quindi so che lui non mollerà di un centimetro, anzi adesso spingerà ancora di più per trarre il massimo da questo momento positivo. Cosa si aspetta Rossi da questa nuova esperienza in riva all'Adriatico? Spero di contribuire a questo nuovo Pescara, a fare un campionato importante e poi chissà, tra un paio di mesi vedremo. Sabato c'è la Ternana, insomma speri perché no di scendere in campo già nella gara con gli Umbri? Mi metto a disposizione, sono arrivato appena ieri, sinceramente non lo so, devo anche mettermi un po' a posto fisicamente, che a Latina mi sono allenato ma non ero disponibile nell'ultima partita, però sì, mi metto a disposizione, spero bene.